Saluto tutti, saluto appunto in particolare lei, professore, e la ringrazio per aver gentilmente accettato il nostro invito a parlare su questo tema attuale della responsabilità. Dico due parole sulla biografia, Andrea Lavazza è Senior Research Fellow presso il Centro Universitario Internazionale di Arezzo e docente di neuroetica presso l'Università di Pavia. Attualmente vicepresidente della Società Italiana di Neuroetica, i suoi interessi di ricerca avvertono sulla filosofia della mente, la filosofia morale e le implicazioni sociali delle scienze cognitive, cioè l'ampio cambio della neuroetica. Il suo libro più recente è Neuroetica curato con Vittorio Sironi, Carocci 2022. Ecco, diciamo che nel nostro linguaggio quotidiano usiamo spesso il termine responsabilità. Oggi poi dicevo che con i venti di guerra che soffiano sempre più minacciosi, la questione è veramente centrale in molti dibattiti. Già Max Weber nella politica come professione del 1919 aveva parlato di etica della responsabilità come di una prospettiva morale secondo la quale appunto per giudicare le azioni occorre guardare alle loro conseguenze. sulla stessa lunghezza d'onda, anzi Onas nel principio di responsabilità del 1989 riformula l'imperativo categorico kantiano nel modo seguente, agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla terra. Oggi mi sembra che possiamo constatare che tali principi in sede politica non siano purtroppo particolarmente influenti, ma anche svariate poi interpretazioni di risultati scientifici tendono un po' ad indebolire questa idea stessa di responsabilità morale. Penso per esempio a Conrad Lorenz che scriveva queste parole, dice l'uomo considerato collettivamente in quanto specie non ha fatto il minimo progresso in ciò che concerne il controllo di se stesso. Le esigenze della morale responsabile, dell'amore del prossimo, predicati dai migliori, tra gli uomini, dai profeti, dai religiosi, dai saggi, non hanno potuto cambiare nulla. Tutti questi tentativi sono falliti, sono stati tutti spazzati via dalla forza di comportamenti irrazionali, volontà di potenza, aggressività, desiderio di espansione territoriale, altrettanti fattori che non hanno nulla di specificamente umano e sono al contrario comuni a tutti gli organismi superiori. Per quanto amara sia questa realtà bisogna saperla guardare in faccia, collettivamente nei suoi rapporti sociali intraspecifici, l'uomo non si comporta differentemente dai topi con la loro tendenza a formare dei clan e ad annientarsi in violenti combattimenti. Questo è quello che diceva appunto Conrad Lorenz, a posto della stessa lunghezza d'onda anche Freud, nel disagio della civiltà, scrive, l'uomo non è certamente una creatura mansueta, bisognosa d'amore, capace di massimo di difendersi quando è attaccata. È vero invece che occorre attribuire dal suo corredo pulsionale anche una buona dose di aggressività. Ne segue qui e gli vede nel prossimo non soltanto un eventuale soccorritore o oggetto sessuale, ma anche un oggetto su cui può magari sfogare la propria aggressività sfruttandone la forza lavorativa senza ricompensarlo o abusarne sessualmente senza il suo consenso, sostituirsi a lui nel possesso dei suoi beni, umiliarlo, farlo soffrire, torturarlo e ucciderlo. Homo homini lupus. Che è il coraggio di contestare questa affermazione dopo tutte le esperienze della vita e della storia? Questa crudele aggressività, in circostanze che le sono propizie, quando le forze psichiche contrari che ordinariamente la inibiscono, cessano di operare, si manifesta anche spontaneamente e rivela nell'uomo una bestia selvaggia alla quale è estraneo il rispetto per la propria specie. Ecco, questo è quanto diceva appunto Freud. Poi diciamo che nella scienza ci sono diversi esperimenti scientifici che sono stati fatti negli anni 70, penso a quello di Stanley Milgram, a quello di Zimbardo e altri, che hanno dimostrato insomma che sotto un influsso di determinati condizionamenti ambientali gli esseri umani possono poi ignorare completamente la responsabilità che hanno verso gli altri. se penso poi a certa stampa di divulgazione scientifica, capita di leggere gli articoli abbastanza sconcertanti, non so, vai male a scuola? Beh, non preoccuparti, è colpa del DNA. Ci sono ragazzi che si comportano come dei bulli, ma anche qui l'educazione non c'entra, è praticamente una questione di mancanza di cortisolo che aiuta a gestire lo stress e la causa è quindi ormonale. Questi ragazzi con poco cortisolo hanno difficoltà a gestire le emozioni. Ecco, insomma, mi sembra che negli ultimi anni i risultati più significativi in merito alle responsabilità sono venuti anche e soprattutto dalle scienze cognitive e dalle neuroscienze, no? E proprio per fare il punto della situazione, il professor Lavazza è senz'altro uno degli studiuti più autorevoli in Italia, ma anche internazionalmente. Per cui cedo subito la parola. Grazie molti, grazie dell'invito, sono molto grato al candidatore e alla Fondazione John Eccles, naturalmente solo il nome di questo grande scienziato in curta e soggezione, per cui sarete clementi nei miei confronti, insomma. Quello che vorrei brevemente con voi questa sera condividere è qualche riflessione su questo tema che, come è stato detto benissimo nell'introduzione, è veramente ampio e può essere esaminato sotto diversi profili, diverse prospettive, per cui naturalmente qui si potrà soltanto provare a fare qualche carotaggio, come si dice, in questi vari ambiti. Il titolo che ho scelto è un po' scherzoso, ma è una parafrasi di un verso di Dante, del purgatorio, in cui Virgilio presenta il suo compagno di viaggio Dante appunto a Cattuone Luticense e dice libertà, in realtà va cercando, cioè Dante, in questo luogo appunto nella ricerca anche di appunto di questa idea di libertà. Mi è sembrato così lecito fare questo piccolo, piccola variazione, proprio perché il legame tra la libertà e la responsabilità, come sappiamo a livello morale, molto forte, ma ovviamente anzi la libertà è in generale ritenuta nella condizione della responsabilità. Per cui noi siamo un po' alla ricerca di questo nesso in questa sede. Un brevissimo sommario di quello che volevo dire, diciamo, il tempo non è tantissimo, ma cercheremo un po' di fare una sintesi. Innanzitutto vedere un po' quali sono i sensi di responsabilità, poi questa idea centrale che ho pensato che poteva essere interessante presentare, visto che in qualche modo unisce un approccio alla responsabilità con recenti studi nel campo neuroscientifico e quindi puoi vedere questa idea del controllo sia nel cervello e quindi come può essere poi misurata, per così dire, da dentro, ma anche il controllo che è qualcosa che in realtà conosciamo da prima, di essere in grado di lavorare direttamente nel nostro sistema nervoso e quindi visto in qualche modo da fuori e capiremo come e poi questo breve punto di chiarificazione di diversi livelli che è un po' il classico rapporto mente-cervello che poi stava dando a cuore anche a John Eccles e quindi poi in chiuderemo questa idea della responsabilità come un concetto comunque normativo che sia qualcosa che non può essere racchiuso totalmente nella prospettiva neuroscientifica. Propongo, quando non annoiarvi, alcuni sensi di responsabilità che sono stati analiticamente identificati da vari studioli, in particolare questa è una tassonomia che ha costruito Nicole Vincent che è una scienziata cognitiva della dirigente australiana che ha fatto i lavori negli Stati Uniti, che tra l'altro dice una collana della Oxford University Press dove appunto ha promosso anche la pubblicazione di vari lavori in questo senso. quindi alcune idee di responsabilità diciamo noi parlava prima della guerra o comunque dell'uomo come incapace anche di violenze, di soprusi e danni al suo prossimo e quindi diciamo che questa idea di responsabilità come integrità è qualcosa che un po' ci porta in quella direzione e quindi l'idea che la persona è responsabile quando possiede un carattere virtuoso che sceglie in base appunto alcuni principi e quindi l'azione responsabile in questo senso è quella che si esplica all'interno appunto di una determinazione che sia appunto motivata e radicata nelle inclinazioni del soggetto. Però questa è un'idea di responsabilità che è molto importante a livello sociale ma che è poco operazionalizzabile, questo è un termine che userò più di una volta appunto, è subnoto a voi, cioè l'idea che si possa in qualche modo trovare un modo di non solo di quantificare ma appunto di rendere studiabile in modo scientifico la responsabilità. Quindi questa è la più difficile, la responsabilità come dovere di ruolo e invece qualcosa che riguarda gli obbi che competono una persona, per esempio una posizione che ricopre, per il ruolo e quindi un esempio banale, un agente di guardia è responsabile della sicurezza del luogo che custodisce. Qui già ci spostiamo un po' a cavallo tra quella precedente e la responsabilità in senso di essere in qualche modo capace di rendere ragione delle proprie azioni, che è il senso più proprio che noi poi terremo un po' semplificato nella nostra analisi. C'è una responsabilità per le conseguenze appunto che riguarda gli effetti, prodotti direttamente o indirettamente dalla gente, per il quale appunto può essere considerato responsabile, classicamente se si commette un reato ma ovviamente in positivo, non dobbiamo dimenticare che la responsabilità non ha solo l'aspetto negativo, è quello ovviamente della lode, per cui se qualcuno fa una donazione appunto viene gratificato di un riconoscimento. La responsabilità causale è quel meccanismo che ci permette di istituire poi quel collegamento tra la gente e le sue azioni, che poi anche uno degli snodi di questo tentativo di operazionalizzare la responsabilità e copre appunto quel legame tra gli eventi, gli stadi di cose, questa è una terminologia un po' più tecnico-filosofica, ma comunque chiara, penso, e quindi questo è quello che ci permette di attribuire la responsabilità personale. Naturalmente c'è una riflessione filosofica enorme sulla causazione, come è noto, e ci sono vari modelli di nesso-causo-effetto, non tutto così semplice, naturalmente possiamo prendere un modello, diciamo, della fisica un po' più banale, insomma, delle palle da begliardo, no? Se noi siamo una palla da begliardo ferma e con un'altra in movimento andiamo a colpirla, noi abbiamo un effetto che può essere in condizioni ideali perfettamente previsto. Questa forma di causazione è ovviamente molto rara nel nostro mondo perché poi abbiamo invece tantissimi elementi confondenti o comunque altre con cause che ci rendono difficile lavorare con questo modello, che pure ovviamente è valido. E quindi quando, per esempio, nel campo medico, che forse c'è anche il nome più familiare, diciamo che se appunto una persona muore per quello che viene diagnosticato in modo semplice, inizialmente, come infarto, naturalmente poi qual è la causa dell'infarto? Naturalmente è l'ostruzione dell'arteria, ma anche il fatto che forse un grande fumatore in qualche modo è una causa della morte del paziente che passa ovviamente da gradi ed eventi diversi, oppure un dispiacere che poteva aver ricevuto la persona, ma ovviamente il dispiacere si sommerà a tutte le condizioni fisiologiche che la persona già aveva, oppure anche una causa paradossalmente negativa, cioè il fatto che questa persona fosse appunto affetta da una patologia cardiaca, ma non avesse assunto i farmaci che avrebbe dovuto. Quindi in questo caso la causa è qualcosa che non c'è stato, quindi questo ci fa capire la complicazione dei meccanismi causali. Naturalmente molto è noto tutti noi, ma è utile anche riepilogarlo. Siamo alle ultime due forme o sensi di responsabilità. Quella, diciamo, come capacità che ci porta anche in un altro aspetto importante che poi vedremo, e quindi la condizione base per la responsabilità in senso generale, quindi quelle qualità o caratteristiche e proprietà personali che siano naturali, acquisite o attribuite perché gli effetti e le azioni possono essere attribuiti agli agenti. Quindi per esempio la razionalità, la comprensione della situazione oppure certe competenze, non possiamo per esempio attribuire la responsabilità di non aver risolto un'equazione di secondo grado a un bambino perché ovviamente non ha le capacità tecniche ma neanche ancora mentali per padroneggiare quell'ambito della matematica che serve per appunto risolvere un'equazione di secondo grado. Quindi questo è, se volete appunto, ancora un'evidenza ma che è importante tenere conto. E alla fine abbiamo quella responsabilità che poi ci porta alla parte finale, diciamo, del giudizio delle responsabilità, quindi quella che può essere espressa in termini di sanzione poi per azioni o di omissioni e quindi chi commette un crimine quindi può essere condannato con diverse pene o ammende eccetera, però ci sono appunto una serie di condizioni che possono essere o attenuanti o esimenti addirittura per cui la persona che pur ha commesso il reato e ha una responsabilità materiale nella commissione del reato, non ha la responsabilità penale in questo caso, ma diciamo anche morale se parlo di reati, per quella stessa azione perché appunto ci sono delle circostanze oppure delle qualità personali che non erano o non sono state sufficienti per attribuire la responsabilità. Noi siamo di fronte a questo quadro molto complesso, molto difficile da circoscrivere, però nel stesso tempo dobbiamo anche un po' quando arriviamo a mettere dei giudizi di responsabilità o alle attribuzioni anche a livello legale di responsabilità, costretti a sintetizzare un po'. Quindi l'idea classica è che c'è comunque una precondizione di libertà per essere ritenuti responsabili, che già taglia molte delle condizioni che abbiamo visto in precedenza, nel senso che se la persona non è libera, cioè se non aveva alternative di comportamento, di scelta, noi tendiamo a pensare che non possa essere ritenuta responsabile. Questo annesso ci sembra anche abbastanza evidente, potremmo ovviamente discutere a lungo e argomentare, però sembra abbastanza chiaro, cioè non possiamo dare la colpa di avere, come dire, aperto la cassaforte ai ladri al cassiere che aveva la pistola puntata alla tempia, perché appunto non aveva altra scelta, non era un complice, non era libero di agire, quindi non può essere tenuto responsabile. Questo è un esempio banale, se volete, ma che fa un po' capire. Però qual è il punto quando poi vogliamo scendere un po' nella valutazione anche di questo annesso e della possibilità di attribuire o dare il giudizio delle responsabilità? Che definire la libertà è molto difficile. Chi era all'inizio ha sentito un po' lo scambio prima di cominciare, cioè questo tema della libertà è ovviamente ancora più vasto di quello della libertà, ma soprattutto ha il difetto da un certo punto di vista, ma anche il fascino da un altro, di essere un tema dove tantissime posizioni si confrontano senza che nessuna finora abbia prevalso. Quindi questa difficoltà di stabilire da una parte cosa sia il libero arbitrio in senso specifico e poi di capire se esista il libero arbitrio, nel senso se le persone siano poi libere davvero, ci fa sì che possa essere utile provare a sganciare questi due concetti, queste due proprietà. e questo può essere fatto più facilmente in nuovi contesti e in particolare con l'emergenza del paradigma neuroscientifico. Questo è quello che ci porta un po' in cuore di quello che vorrei discutere brevemente con voi, nel senso che questa premessa appunto è funzionale al fatto che noi abbiamo storicamente questo pianto molto sofisticato che però ci vincola a considerare molti aspetti che potrebbero essere anche ritenuti o superfi da un lato o comunque non veramente risolvibili. Quindi c'è questa tendenza che poi in generale nella cultura portata dalla scienza contemporanea, cioè di provare appunto a operazionalizzare, a rendere misurabile, quantificabile e quindi anche in questo senso dei tentativi ci sono. Quindi l'idea è che troviamo il guidatore dentro il nostro cervello. Chi sta al comando, no? Questa è un po' una classica cosa, anche come un calco dalla lingua inglese, no? Quindi I was in charge, no? C'è un libro di Gazzaniga, famoso neuroscienziato, che un po' si intitola così. E appunto chi sta al volante. E naturalmente possiamo scegliere molte definizioni, entrare un po' direttamente nel tema in vari modi. Ho scelto un po' questo, appunto viene da un articolo di Sartori e Scarpazza, che è contenuto in un libro che ho curato con i colleghi da Carlo e Sartori qualche anno fa. È una definizione abbastanza semplice, ma che ci permette di entrare e provare a utilizzare anche gli strumenti neuroscientifici per circoscrivere il concetto di responsabilità e di operare con esso in modo abbastanza diretto. Quindi l'idea di responsabilità di prevedere le conseguenze del proprio comportamento e di correggerlo sulla base di tale previsione. E come corollario, quindi la responsabilità come controllo consapevole sugli impulsi che hanno origine cerebrale o genetiche. Naturalmente l'altra premessa è implicita, ma penso che questa sede non sia da discutere, che appunto sono impulsi che spesso dobbiamo controllare appunto di origine del nostro sistema nervoso e che certamente il nostro corredo genetico abbia un'importanza particolare per predisporci almeno a certi tipi di comportamenti. Naturalmente anche qui non potremmo entrare nella vasta discussione sui modi in cui va interpretata la genetica comportamentale, però prendiamola in questo modo probabilistico già fin dall'inizio, evitando i determinismi che certamente sono molto discutibili e molto difficili da dimostrare. Quali sono gli elementi di base appunto sia che discutono Sartori e Scarpazza, ma che in generale comunque sono a mio avviso importanti? Appunto quello che sappiamo da alcuni decenni ormai, che il lobo frontale è molto importante nel controllo volontario delle azioni e che alterazioni strutturali e funzionali del lobo frontale stesso hanno delle importanti conseguenze comportamentali. Quindi se in qualche modo influenzano il comportamento, e soprattutto influenzano il controllo degli impulsi, gli aspetti inibitori, certamente hanno qualcosa da dire su quella definizione di responsabilità che abbiamo isolato in precedenza. Quindi questo ambito, anche il ruolo della genetica comportamentale, è certamente fondamentale. Naturalmente anche qui dovremmo provare, ci vorremmo molto tempo a distinguere i piani, ovviamente prima arrivano i geni, l'espressione genica, poi ovviamente ci sono i neuroni, ci sono i neurotrasmettitori, però dobbiamo per ora stare in una costruzione abbastanza generale in cui dobbiamo tenere alcune cose un po' più come delle etichette, mi perdonerete, ma non possiamo, non abbiamo il tempo per approfondire ulteriormente. E l'altro grosso passo avanti che è stato fatto negli ultimi decenni, anche qui non devo dire nulla a voi, è appunto che i disturbi psichiatrici non sono più visti come funzionali, nel senso appunto che non erano sganciati dal cervello, ma appunto che erano una manifestazione comportamentale, ma vengono invece riportati al loro legame con anomalie cerebrali che sono di tipo strutturale volumetrico oppure neurochimico, insomma con squilibrio per esempio dei neurotrasmettitori e così via. Tutto questo ci riporta strettamente quell'idea di controllo, quindi quell'idea di controllo che abbiamo appunto riportato come possibile al meccanismo di base nel cervello, possiamo appunto chiederci che cosa vediamo veramente nel cervello, perché facciamo questa idea generale un po' teorica, se volete, e poi si rende molto concreta quando poi abbiamo alcuni di quei casi più o meno famosi che ci hanno portato a entrare in questo paradigma. Ovviamente tantissime piccole scoperte, migliaia di studi, creano, come dire, il background della disciplina, ma poi quello che in questo caso, visto che non stiamo parlando di una singola scoperta neuroscientifica, ma come dire, di un slittamento culturale, di alcuni aspetti anche convenzionali, ci sono delle singole storie, di singoli casi clinici, che creano anche un clima culturale. Per esempio, il film di Gage è stato raccontato da Antonio Damasio, che è abbastanza nota, è stato uno di questi, però con Satina Sartori inizia una scappata nel suo articolo, per esempio anche il poeta Paul Liner, che era stato ferito durante la Prima Guerra Mondiale, ha avuto successivamente dei mutamenti comportamentali molto radicali, diversi da quelli di Gage, ma che comunque fanno pensare appunto che gli aspetti di funzionalità corticale siano fondamentali nella modulazione del comportamento. e poi il caso, uno dei casi che è seguito da Satina Sartori in questi anni, è di un pediatra vicentino che era una persona assolutamente stimata, un professionista di dispecchiata moralità, peraltro che dopo i 60 anni improvvisamente aveva cominciato a molestare alcune bambine che aveva visitato questo professionista per il fatto che aveva sviluppato un raro tumore cerebrale e si è pensato che la compressione che il tumore ha provocato di alcune aree frontali che possa avere, come dire, slatentizzato una potenziale tendenza pedofilica o comunque abbia creato un comportamento che il medico non poteva controllare, quindi per il quale anche a processo la difesa ha detto non deve essere punito perché appunto non era qualcosa che gli può essere rimproverato, non era sua responsabilità, ecco la parola chiave, perché è il tumore che ha creato queste tendenze, questi comportamenti. Naturalmente questa testa, tra l'altro, non è stata recepita dal tribunale e è molto, e lo vedremo nei prossimi minuti, molto complicato passare da una diagnosi di tumore perché è indiscutibile, ha una ricostruzione causale e ziologica dal tumore a un comportamento così particolare come la pedofilia. Lo sappiamo che comunque la ricerca di correlati è generale oggi nella medicina, soprattutto nella psichiatria, quindi ogni malattia dovrebbe avere i propri correlati cerebrali, ma questo non sempre è possibile, almeno alle conoscenze attuali, e poi abbiamo ancora dei problemi di causalità, come abbiamo visto prima, questa causalità così meccanicistica delle palle da biliardo nel nostro cervello che non funziona assolutamente, la biologia non è la fisica dei corpi duri, quindi c'è una complessità che non siamo ancora in grado di maneggiare, forse lo saremo nel futuro, questo è un problema più, come dire, più sistemologico, metodologico, che non possiamo prevedere come verrà sviluppato. In generale dobbiamo comunque accogliere una concezione probabilistica che va dalla fisiologia al comportamento, questo sembra essere un po' il punto chiaro. E quindi l'idea è che in alcune situazioni, proprio per delle lesioni o per degli squilibri neurochimici, ci possa essere una ridotta capacità di inibire i comportamenti istintivi impulsivi, oppure di pianificare propriamente il proprio comportamento manifesto. E questo ovviamente porterebbe a una ridotta responsabilità, cioè se noi non abbiamo questa capacità, la nostra responsabilità, sembra una posizione plausibile, potrebbe essere ridotta comunque l'attribuzione di responsabilità diminuire. Naturalmente qui in mezzo ci sono molti passaggi più complicati, che adesso andremo brevemente a vedere, proprio perché noi sappiamo che in generale questa idea di controllo non è nuova, ma è qualcosa che anche la scienza psicologica ha già affrontato prima che noi fossimo in grado di entrare, per così dire, nel sistema nervoso delle persone. Ovviamente la parte più tecnica, anche scritta da Sartori, è quella di strumenti, ovviamente di neuroimaging, di PET, di altri esami, di profilatura genetica, che ci danno tutte queste indicazioni appunto dall'interno. Ma l'idea che il controllo sia qualcosa che le persone hanno in modalità diversa, in quanta misura diversa, anche viene prima ancora dalla psicologia. Quindi qualcosa che riguarda le abilità cognitive, qualcosa che noi possiamo considerare, identificare, isolare e anche operazionalizzare senza necessariamente guardare dentro il cranio delle persone. quindi, per esempio, le abilità cognitive sono misurate classicamente dai test neuropsicologici. Quindi possiamo avere questa idea dall'esterno del controllo, quindi le funzioni esecutive cosiddette, sono quelle che classicamente sono deputate al controllo del comportamento e sono appunto quelle che ci permette di organizzare e pianificare le nostre azioni. e queste abilità quindi ci accompagnano in qualunque aspetto della nostra vita e sono quelle che prima della possibilità di avere un'analisi neuroscientifica ci permettevano anche di fare una diagnosi, anche per esempio di un'imputabilità. Cioè c'erano i cosiddetti test carte matita, che lo psicologo o lo psichiatra potevano eseguire per esempio su un imputato per capire la sua capacità di intendere e di volere, per esempio. Quindi la capacità di intendere riguarda aspetti più statamente cognitivi, mentre il controllo, quindi la capacità di volere, riguarda appunto le funzioni esecutive, che sono qualcosa che possono essere operazionalizzate. Scusate che avevo questa slide in inglese, ma i test per chi vagamente li conosce sono ben noti. Quindi appunto ci sono numerosi test molto utilizzati nella neuropsicologia, quindi nella valutazione delle persone, che permettono di valutare quanto, per esempio, è in efficienza la memoria di lavoro, piuttosto la capacità di inibire le risposte automatiche, lo stroke test è quello noto dei colori, per cui appunto bisogna avere la capacità di entrare in questo meccanismo, quindi leggere la parola scritta in un colore, ma non dire il colore in cui è invece scritta la parola stessa. Quindi questo tipo di test sono qualcosa che non necessariamente ci porta dentro il cervello, ma che ci permette comunque a un diverso livello di valutare il controllo delle persone. Quindi potremmo in qualche modo, è qualcosa che anch'io ho scritto in alcune sedi, pensare che le funzioni esecutive siano correlate fortemente con il controllo, quindi con un'idea di responsabilità. Un'idea di responsabilità, per esempio, migliore dei test diretti di autocontrollo. Qui ci faccio spendere una parola su questo perché appunto ci fa capire come possiamo evitare dei cortocircuiti. Noi abbiamo posto inizialmente un'ipotesi, appunto nel momento in cui si vuole fare interagire la scienza con un concetto classico e molto più antico, come quello delle responsabilità e abbiamo provato a farlo provando a ipotizzare un'equazione tra responsabilità e capacità di controllo del comportamento che passa tipicamente, se abbiamo un approccio neuroscientifico, appunto con l'efficienza delle aree prefrontali e così via. Però diciamo che in tempi più, se non molto più antichi, erano già stati proposti dei test diretti dell'autocontrollo, che è come per esempio quello di Michel, che forse qualcuno l'avrà anche incontrato in qualche video molto anche curioso, quindi questi bambini che devono non mangiare subito, diciamo, il dolcetto che hanno di fronte. Il compito è se aspetti un po', tu lo puoi mangiare quando vuoi, ma se aspetti qualche minuto, te ne portiamo due, te ne portiamo tre. E quindi l'idea è che il bambino che non ha ancora sviluppato pienamente tutte le capacità, le funzioni cognitive esecutive, può in quella fase mostrare appunto non tanto un'elaborazione consapevole, ma appunto qualcosa di un po' più, perdonatemi il termine semplificato, istintivo, e quindi vedere quale bambino in quella fase di vita è più capace di questo autocontrollo. E la cosa interessante, come sappiate, è che osservando queste persone con studi longitudinali per tanti anni, si è visto che quelli che avevano maggiore autocontrollo da bambini erano quelli che avevano avuto una vita più realizzata, avevano avuto meno problemi con la giustizia, meno problemi di dipendenze da sostanze, una famiglia più unita, comunque con minore disfunzionalità, e così via. Tutto questo appunto sembrava riportare alcuni test di reti di autocontrollo come appunto qualcosa di particolarmente illuminante a questo punto di vista. Studi recenti però hanno un po' messo in dubbio queste interpretazioni, perché si dice che tutte le persone considerate erano un po', come dire, tipico americano della classe media, dove appunto c'è tutta una cultura che ruota intorno a questo tipo di esistenza, che tagliava fuori tantissimi altri progetti di vita, tipi di cultura, eccetera. Quindi questo ha fatto un po' ridiscutere i test di Michel e ci ha riportato un po' a trovare qualcosa che meglio misuri l'autocontrollo dal punto di vista esterno e appunto questa idea che le funzioni esecutive, quindi alcuni test, ci diano un quadro migliore che è tornata in auge. Restano però alcuni, o due meglio, punti chiave da chiarire e naturalmente uno è quali siano le cause delle differenze individuali nelle funzioni esecutive e il secondo è quali differenze influenzino la responsabilità individuale, perché ovviamente c'è una variabilità, come in tutte le qualità umane, a partire da quelle fisiche, abbiamo persone più alte, più basse, abbiamo persone che hanno migliori punteggi in alcuni test neuropsicologici di quelli che abbiamo visto e persone che hanno punteggi più bassi. Questo ovviamente non comporta un giudizio sulla qualità della persona, ma semplicemente noi siamo di fronte a queste differenze. Quindi dobbiamo chiederci quali sono le cause di queste differenze, sono totalmente dovute a una lotteria naturale che non possiamo ulteriormente esaminare oppure sono a loro volta riflessi di condizioni, per esempio, dell'educazione dei primi anni, il tipo di famiglia, il contesto, l'ambiente, anche lo stato socio-economico dei genitori, e tutta una serie di altri elementi. Però anche quando avessimo chiarito questo aspetto, resta molto importante capire quali sono le differenze che sono rilevanti per la responsabilità individuale. Sicuramente potremmo pensare che avere una memoria di lavoro più o meno buona certamente ci può comportare qualche inconveniente nella vita di tutti i giorni, perché appunto se dimentico sempre le chiavi, se tralascio qualche piccola incombenza che avrei dovuto svolgere, certamente posso avere dei piccoli effetti nella mia vita, ma non certamente grandi sconvolgimenti, però altre cose invece possono avere dei pesi maggiori. Quindi qui ancora siamo richiamati a una traduzione appunto di questi aspetti che sono estremamente clinici, noi possiamo operazionalizzare, possiamo individuare e in qualche modo fotografare in un modo oggettivo, o comunque abbastanza oggettivo, e poi invece c'è ancora un passo per la traduzione. Quindi questa è un po' l'idea anche, penso, classicamente analizzata, anche se in un contesto che oggi è un pochino cambiato da John Eccles, appunto del mettere a confronto diversi livelli di analisi tra appunto quello che è chiamato la mente e quello che è il cervello. Ovviamente è più facile definire cosa sia il cervello, come ovvio, quando invece oggi dobbiamo definire cosa sia la mente abbiamo qualche difficoltà in più, nel senso che è un'entità che appunto per qualche aspetto è legata al cervello, può essere analizzata a un livello diverso, quindi funzionalmente può essere distinta, ma dal punto di vista ontologico tutto resta il tema sempre del rapporto o della distinzione. naturalmente Eccles propose, lo sapete meglio di tutti, delle soluzioni che ancora oggi sono discusse, ma che naturalmente non sono accettate da molti neuroscienziati attualmente. Quindi oggi possiamo dire certamente che le funzioni esecutive sono analizzate a livello della manifestazione funzionale, cioè non facciamo un fMRI per vedere la memoria di lavoro oppure la capacità di inibire le risposte automatiche, ma facciamo dei test appunto che lavorano a questo livello, ma pensiamo, almeno penso molti degli studiosi che si occupano del sistema nervoso umano, pensano che ci sia anche una base cerebrale di queste funzioni. E comunque questa base cerebrale che possiamo, per così dire, fotografare in un momento preciso, diciamo che io oggi faccio un test, anche un test in QI, che abbia un determinato conteggio nel QI, ovviamente si può andare a vedere, posto che abbia un QI molto basso, si dice che non è molto intelligente, però questa è una forma colloquiale, possiamo vedere che magari, non so, un'atrofia di alcune aree, un inizio di neurodegenerazione. Questo può essere una causa, però si potrà avere una fotografia, diciamo, in cui non ci sono palesemente delle anomalie. Allora, noi sappiamo che ci sono una serie di altri elementi esterni, che dall'ambiente alla famiglia, alla cultura, alle condizioni socio-economiche, quanto è ricco di stimoli, l'ambiente in cui ci troviamo, che hanno un'importanza molto alta per il QI, però possiamo ritenere che tutto questo si traduca poi nelle strutture cerebrali che sono alla base delle funzioni che misuriamo, probabilmente sì, però non sappiamo esattamente come. Questo diverso grado di influenza, che se passa, come è probabile, dal cervello, non siamo ancora in grado di valutarlo perfettamente. Quindi questa filtratura che il cervello fa di tutto, però rimane per la gran parte ancora ignota. E questo, naturalmente, è quello che ci lascia ancora in una situazione in cui dobbiamo muoverci su più livelli. Quindi, tirando un po' alcune conclusioni e poi vedendo ancora alcuni punti critici, possiamo probabilmente dire che oggi abbiamo compiuto un enorme progresso in pochi decenni, per quanto riguarda le scienze del cervello, e questo progresso ci permette di cogliere, cominciare a cogliere i correlati neuronali delle funzioni mentali. Diciamo che i correlati non sono messi in discussione da nessuno, ovviamente, neanche i dualisti più puri, diciamo i cartesiani di oggi, comunque accettano, possono accettare che ci siano dei correlati di alcune funzioni mentali. Diverso è dire che ci sono delle basi neurali, nel senso, diciamo, di una causazione diretta, di necessità e sufficienza delle strutture cerebrali rispetto alle funzioni, alle proprietà mentali. Questo è diverso, chiaramente i dualisti dicono che questo è falso, almeno per alcuni aspetti, naturalmente. Questo è importante perché, per quanto riguarda le responsabilità, abbiamo sicuramente alcune parti che sono, come dire, non controverse rispetto a questa cerebralizzazione. Diciamo che questo esempio dell'afasia è un po' classico, perché è un po' la storia della neuroscienza, insomma, da Brocaim poi, ma naturalmente ci sono altre funzioni cui basi neuronali non sono così ben identificate. Comunque, diciamo, non sono del tutto sufficienti per la nostra conoscenza attuale da spiegare la variabilità del dato mentale. Sappiamo che ci sono delle situazioni particolari dove persone che hanno apparentemente delle lesioni molto gravi hanno poi delle funzioni equiparabili a quelle di persone che hanno un cervello normo sviluppato. Quindi questo, ovviamente, da un lato può farci pensare che la conoscenza fine cerebrale non spiegherà tutto, ma dall'altro può anche farci solo ritenere che siamo ancora in una fase di conoscenza del nostro sistema nervoso che non abbastanza sviluppato per avere questa completa padronanza dei meccanismi. E quindi il problema, però, con la responsabilità è che se noi partiamo da un concetto astratto, il ponte che dobbiamo un po' costruire è ancora veramente molto complesso. Questo è un ponte, noi siamo diventati molto bravi a costruire ponti, ma questo sembra ancora un po' complesso. Alcuni punti che ci fanno capire che cosa dovremmo connettere per arrivare veramente a questo progetto completo. Ovviamente prima dobbiamo trovare questo modo di operazionalizzare l'idea di responsabilità. Abbiamo detto che questo è un po' possibile, abbiamo trovato una formula per iniziare a farlo, però poi dobbiamo vedere come individuare i correlati cerebrali e come misurarli. Questa è un po' quell'idea di isolatori, cioè andare a vedere la funzionalità della corteccia prefrontale, vedere alcuni profili genetici specifici e quindi anche questo sembra potersi cominciare a fare naturalmente con mille difficoltà e ancora distingue rispetto ai singoli casi. Però poi dobbiamo ancora fare un passo che in qualche modo va al di là di quella che è la scienza sperimentale, non è qualcosa che possiamo oggettivamente quantificare e cioè individuare quali sono le soglie significative di quel correlato. Cioè, posto che tutte le persone hanno una diversa capacità di inibire alcuni stimoli, alcune risposte automatiche, che quello che a noi interessa quando poi ragioniamo di responsabilità con le persone nel nostro ambiente sociale, ma non solo sociale, è qualcosa che riguarda alcuni ambiti, alcuni segmenti di questo continuum. Cioè, è possibile che alcuni estremi siano quelli che già in passato, anche se noi non eravamo in grado di fare tutto questo lavoro di analisi sul cervello, diciamo per esempio le corti, anche due secoli fa, dicevano se una persona è palesemente pazza, scusate il termine molto volgare, ma non può essere punita. Ovviamente qual era la diagnosi di pazzia di due o tre secoli fa? era molto, molto poco raffinata, era fatta su comportamenti particolarmente bizzari del soggetto, o piuttosto su alcune scarse conoscenze psicologiche. E quindi però è possibile che quei pochi soggetti identificati all'epoca appunto come pazzi, tra virgolette, fossero coloro che stavano diciamo in un estremo superiore o inferiore, superiore a seconda di come vogliamo considerarlo, di questo continuum del controllo. Ma tutti quelli che invece stanno nel segmento centrale, dove possono avere ancora, diciamo, delle esimenti rispetto a un reato, qual è la linea che possiamo tracciare? Naturalmente questo è totalmente convenzionale, qualcosa che non ha a che fare con la scienza medica, o comunque con la ricerca neuroscientifica, perché è qualcosa che vogliamo noi porre, che naturalmente è particolarmente complicato. e ancora di più dobbiamo capire come utilizzare i dati che abbiamo ottenuto appunto con questa operazionalizzazione. Perché poi è vero che potremmo costruire un continuum numerico della funzionalità della corteccia prefrontale, però anche una volta che avessimo segmentato dicendoci interessa e rilevante da 8 a 12, però come questi dati poi come si veramente traducono, come possiamo far sì che siano veramente un corrispettivo affidabile dei comportamenti, naturalmente possiamo fare delle operazioni di correlazione, cioè osserviamo per molto tempo le persone e a seconda dei valori numerici che abbiamo segnato, la loro capacità di controllo, possiamo vedere se queste persone che avevano per esempio il valore 8 hanno quasi sempre capacità di controllarsi e così via. Questo è qualcosa che naturalmente si può fare nel tempo, ma che non è comunque ancora di rimente. Quindi quello un po' per concludere che penso possiamo dire è che la responsabilità comunque resta un concetto normativo, qualcosa che noi dobbiamo soppesare dal punto di vista delle nostre teorie, dei nostri valori, dei nostri concetti, naturalmente anche con l'aiuto delle neuroscienze, perché certamente, almeno attualmente, forse potremmo trovare alcuni segmenti di questo continuum dove più chiaramente possiamo porre dei dubbi sul fatto che la persona sia capace di controllo, quindi la persona sia capace di controllo, però sono ancora segmenti estremi probabilmente, sono segmenti che ci aiutano un po', ma non veramente a dirimere tutti i casi. Quindi l'idea è che la responsabilità resta un concetto normativo perché qualcosa si dice, questo naturalmente è un concetto antico della filosofia morale, che riconoscere agli altri la responsabilità è doveroso, quasi sempre comunque, perché vuol dire riconoscere agli altri individui la capacità di essere razionali, di essere autonomi, cioè le cose che noi consideriamo più importanti, quelle che danno più dignità all'essere umano, il fatto che appunto è una tradizione kantiana, se volete, dell'essere umano come colui che si dà da solo una propria regola di vita, quindi deve essere capace di questo pensiero e di prendere queste decisioni, quindi non essere sottomessa a una legge morale esterna, ma darsi la propria, che non vuol dire che uno poi fa quello che vuole, ma che ciascuno arriva a comprendere ciò che è giusto, ciò che è doveroso, che può coincidere poi naturalmente con quello che anche gli altri pensano, ma questo deve essere un processo che ciascuno fa per sé, liberamente, e questo gli dà poi la capacità di essere responsabile delle proprie azioni, perché non è vittima di un indottrinamento, non è qualcosa che arriva dall'esterno, ma è qualcosa che dall'interno del soggetto è riuscito a costruire. E quindi non riconoscere la responsabilità potrebbe essere appunto in qualche modo lesivo della dignità umana. E quindi procede con una negazione della responsabilità che sia basata strettamente o esclusivamente sui risultati di ricerche sul cervello, comunque di, come abbiamo visto, fotografie, tra virgolette, della funzionalità cerebrale, potrebbe appunto essere qualcosa che va un po' contro alcune nostre intuizioni. Naturalmente le nostre intuizioni non sono sempre le migliori, non sono sempre la guida più efficace. sappiamo che tanta scienza è controintuitiva, quindi noi abbiamo tra virgolette delle intuizioni anche rispetto alla fisica che sono sbagliate. Vediamo il bastoncino immerso nell'acqua, lo vediamo piegato, ma non è piegato. Quindi abbiamo questa, come dire, distorsione sensoriale in questo caso, che è dovuta al fatto che il nostro sistema visivo è organizzato in un certo modo. Anche le nostre intuizioni morali, in alcune ricostruzioni si dice, sono derivanti dalla storia evolutiva dell'umanità, ma non necessariamente ancora oggi ci aiutano in ambienti diversi. Quindi anche questa riluttanza a accettare alcune nuove conoscenze neuroscientifiche potrebbe rientrare in questa categoria di intuizioni non sempre più funzionali. Questo non lo sappiamo per certo, però certamente possiamo ora riflettere su questi aspetti. Per concludere, però, possiamo dire che ci sono oggi, proprio in questo senso, controintuitivo, interpretazioni che leggono positivamente l'assenza di responsabilità, ma non, come dire, giudicando positivamente chi si comporta da responsabile, ma tenendo appunto fede alla definizione che abbiamo assunto noi, l'idea è che si ritiene che il controllo è un controllo tale da giustificare l'attribuzione delle responsabilità, non esista, ma non esista per nessuno. Questo discende dal fatto che, nel legame che abbiamo visto prima tra libertà e responsabilità, questi studiosi, che sono sia neuroscienziati che filosofi, sono, come si chiamano, come hanno scelto loro di questo termine, sono illusionisti, cioè pensano che la libertà sia una illusione. E quindi, se non c'è libertà, anche la responsabilità cade. non abbiamo possibilità di essere ritenuti appunto moralmente gli artefici di queste azioni, anche se poi fisicamente dal punto di vista della causalità materiale lo siamo. e però, se questo una volta era un'idea, per esempio lo diceva chiaramente San Tommaso, se ci fosse un determinismo assoluto della volontà, diciamo, tutti i concetti, le nozioni della filosofia morale cadrebbero, cioè non avrebbe senso lodare o biasimare qualcuno che è sostanzialmente un robot, anche se all'epoca i robot erano sconosciuti, diciamo, o comunque un'automa, qualcosa che si muove soltanto per degli input che gli arrivano esterni, sui quali non ha controllo. Non avrebbe senso nessun tipo di premio, nessun tipo di merito. E proprio a questo si attaccano un po' gli illusionisti, dicendo, ma pensiamo come le nostre società così acquisitive, così competitive, tutte basate su questa idea che un qualcosa, gli altri che non ce la fanno non se lo sono meritato. Quindi ognuno è responsabile in modo individualistico del proprio successo, del proprio fallimento. Noi dicono invece, passiamo invece a una società in cui questa idea cade, perché nessuno è veramente responsabile, nessuno è veramente meritevole del successo che ha. molto deriva dal caso, molto deriva dalle dotazioni naturali che abbiamo, per cui non abbiamo nessun merito. Se io sono più alto di qualcuno, ovviamente non ne ho merito, ma ugualmente se sono più intelligente, se sono più brillante, non ne ho merito. Quindi questa idea, che un po' si basa su alcune acquisizioni neuroscientifiche, ma per molti aspetti si basa su degli argomenti filosofici, però incrocia un po' queste gestioni molto recenti per sostanzialmente poi portare avanti un progetto politico, politico morale, che è appunto quello di negare nel senso pieno, classico, la responsabilità dei soggetti e quindi anche evitare, per esempio, l'altro tema grosso per esempio negli Stati Uniti è che sappiamo c'è una popolazione carceraria immensa, c'è un milione più di persone nelle carceri americane, una percentuale altissima della popolazione, che non ha nessun paese occidentale, ma penso anche pochi paesi nel mondo, e quindi l'idea di questi studiosi è ma tutti questi che sono in carcere sono veramente meritevoli di stare in carcere, non è che sono vittime del loro ambiente, delle loro cortecce prefrontali che gli consentono di inibire certi impulsi violenti o aggressivi o antisociali e così via. Quindi la loro proposta è non mettiamo le persone in carcere, ma piuttosto mettiamole come fossero dei malati contagiosi in quarantena, cioè mettiamole in condizioni di non contagiare, di non nuocere la società, ma non di punirli in modo afflittivo, perché appunto non hanno demerito, come noi non abbiamo merito di essere, per virgolette, bravi cittadini, loro non hanno demerito di essere cattivi cittadini. Questo fa capire, in modo penso interessante, anche quanto poi alcuni spunti che vengono dalla scienza possono tradurre in proposte anche politiche e morali piuttosto interessanti. Mi fermerei qui visto che non ci ho preso parecchio tempo e se poi vogliamo parlare di qualche aspetto volentieri. Ringrazio intanto per questa splendida conferenza. Un piccolo riferimento bibliografico per chi volesse può approfondire appunto il libro, quello che ci ha citato anche prima appunto questa antologia su quando siamo responsabili, poi alcuni articoli che mi hai più recenti e questo libro molto bello anche di Carla Bagnoli, che è un taglio un po' più filosofico, ma diciamo un volume molto ponderoso che fa tutta un'analisi dell'idea di responsabilità nella filosofia, con anche degli agganci alla scienza, che poi è interessante. Ecco, grazie mille per questa appunto relazione ricca di stimoli. Io penso che come consuetudine lasciamo adesso, diciamo, agli ascoltatori la possibilità di porre delle domande. C'è qualcuno che vuole porre una domanda? Provo magari io a rompere il ghiaccio e poi dopo c'è qualcuno che espone qualche domanda. Beh, diciamo quasi tutti mi sembra che siano concordi nel dire che la responsabilità presuppone la libertà. Però quello che trovo magari un po' più, diciamo che non sembra conseguente, è che non tutti sono d'accordo che il determinismo poi ci esime dalla responsabilità. Come vede queste due posizioni? Da una parte appunto la responsabilità presuppone la libertà, però su questo nessuno dice nulla, no? Sembrerebbe quasi un assunto abbastanza accettato. Però quando si dice una posizione che sembrerebbe quasi equivalente, che il determinismo ci esime dalla responsabilità, molti non sono d'accordo. Certo. No, questo è un tema ovviamente molto molto importante su cui tantissimi studiosi si sono soffermati a lungo. Il determinismo diciamo che classicamente, ben prima della scienza moderna, però come concetto metafisico era ben chiaro anche la filosofia antiche, a partire da Platone e Aristotele. Quindi il nemico della libertà è sempre stato questa idea, appunto, della fisica di determinismo, cioè l'idea che il mondo ha delle leggi immutabili e che tutte le entità che ha il mondo sono soggette a queste leggi immutabili. Quindi poi dopo è stato formalizzato molto bene da un filosofo che si chiama Van Inwagen qualche decennio fa, ma insomma sostanzialmente questa idea appunto c'è da 2500 anni, cioè visto che le leggi sono immutabili, ci sono degli eventi che sono svolti ovviamente prima che noi nascessimo e gli eventi sono concatenati secondo leggi immutabili e noi non possiamo che essere dentro questa catena di eventi immutabili. Quindi la libertà in questo senso non c'è. Naturalmente poi qui si può obiettare alcune di queste premesse, il determinismo non ha il consenso unanime appunto perché poi anche la scienza moderna si ha mostrato per esempio con la meccanica quantistica che diciamo il determinismo nel senso classico non vale, bisogna riadattare anche questo concetto. Comunque più pragmaticamente tanti filosofi, appunto prima che ci fossero anche elementi sperimentali contro il determinismo, avevano assunto quello che si chiama compatibilismo, cioè l'idea che si può essere liberi anche se il determinismo è vero. Quindi questa idea da Hobbes in poi è stata, per dirla molto terra a terra, poi visto che si fa ora di cena, come dice il mio amico Mario De Caro, che è un grande aspetto del libro d'arbitro, dice che il compatibilismo è quella cosa per cui appunto io vado al ristorante e mi dicono oggi abbiamo solo pasta o pizza, cosa vuoi? Io dico pizza, mi portano la pizza, sono contento, volevo mangiare la pizza e quindi ho scelto liberamente, anche se c'è il determinismo universale. Quindi il determinismo però dove agisce? Sul fatto che io avevo voglia di pizza, cioè perché quel giorno lì avevo voglia di pizza, non di pasta, questo probabilmente lo possiamo individuare in modo semplice ovviamente, però diciamo che i compatibilisti accettano che il volere sia determinato, l'importante è che poi diciamo le nostre azioni siano coerenti con i nostri desideri e che non siano impedite, non siano influenzate. Quindi io arrivo al ristorante con voglia di pizza, però poi dopo io potevo anche prendere la pasta, il cameriere non avrebbe obiettato, poi alla fine sono soddisfatto di aver preso la pizza, non mi sento appunto manipolato da nessuno, però appunto il compatibilismo ovviamente è una posizione che dopo, quando si ragiona in modo un pochino meno a fumetti, ha delle aporie, insomma, perché non siamo soddisfatti del fatto che i nostri desideri possano non essere liberi anche quelli. Comunque non ci piace che non siano liberi. Il punto del determinismo, del compatibilismo, scusi, è il fatto che in qualche modo noi non ce ne rendiamo conto, cioè un po' come i pensieri, non ci vengono in mente, i desideri ci vengono e noi siamo contenti dei nostri desideri, non ragioniamo del fatto che siano dovuti a dei meccanismi che sono al di fuori del nostro controllo, insomma. Questo ovviamente è un capitolo enorme della filosofia dell'azione, della riflessione sul libero arbitrio, però certamente è un tema importante. Grazie mille. Nel frattempo vediamo se c'è qualcuno che vuole porre una domanda. Decisamente forse non sembra che nessuno voglia, visto che magari è anche l'ora così tarda, non insisterei. Io intanto, ripeto, la ringrazio per questa bellissima conferenza. Speriamo che come si riesca magari una qualche volta a trovarsi a qualche congresso, simposio che organizziamo magari noi, magari visto che lavora a Milano, mi ha detto abita a Milano. Sì, sì, tra Milano e Bavia. Tra l'altro, per me di fare un po' di pubblicità, faremo come si dice nella società italiana di neuroetica, che è appunto questa disciplina che un po' cerca di unire le neuroscienze con la filosofia e altri aspetti delle ricadute, poi le implicazioni delle scoperte neuroscientifiche. Poi faremo un convegno a metà maggio, magari posso mandare alla vostra segreteria il programma, se qualcuno possa interessare. insomma, non è così lontana, ci sono anche degli studiosi internazionali interessanti da sentire. E sarebbe dove diceva questo convegno? Alla Università Statale di Milano, tra l'11 e il 13 di maggio. Ah, 11-13 di maggio. Comunque, volentieri voi condivido il programma via mail con la vostra segreteria, in modo che si può far circolare. Benissimo. Grazie mille. Allora ancora ringrazio per questa bellissima serata e auguro a tutti una bella primavera. ci vedremo appena continueremo con questa organizzazione di ulteriori, diciamo, serate via Zoom. Grazie ancora e alla prossima. Arrivederci. Grazie. Buona serata. Grazie.